ciao in questo video vedremo come installare la trappola di monitoraggio per insetti x trap oltre a quello che è contenuto nella confezione avrai bisogno di un tronchesino delle fascette supplementari per fissare i cavi al filare del feromone specifico per la specie di insetto da individuare il dispositivo viene fornito già preassemblato con fotocamera e gateway per prima cosa faremo la registrazione del dispositivo sulla piattaforma x farm leggi il codice del dispositivo ed apri l'applicazione x farm una volta entrato nell'account della tua azienda agricola vai nella sezione sensori clicca sul bottone più usa la mappa per selezionare il punto in cui installerà il tuo sensore inserisci un nome che lo identifichi scrivi il codice letto sotto la scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato una volta fatto clicca su crea sensore per aggiungerlo al tuo account a questo punto prova ad accendere il dispositivo premendo il pulsante esterno della scatola bianca controllando che il led al centro del pulsante lampeggi velocemente se questo accade conferma che la batteria è carica ed il dispositivo è pronto ad essere installato in campo alla prima accensione viene sempre scattata una foto di test che potrai visualizzare sul tuo account dopo pochi minuti ora dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare il dispositivo avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire con il segnale fissa la scatola bianca gateway su un palo di supporto tramite le due fascette da 30 centimetri orientando il pannello solare verso sud posiziona la capannetta nel punto in cui vuoi installarla e fissala al filare con il filo di ferro o le fascette corte tramite i due anelli predisposti apri la porticina anteriore e inserisci il foglio adesivo con il ferromone nella parte inferiore la foto viene aggiornata su xfarm una volta al giorno grazie per aver visto questo video tutorial iscriviti al canale youtube di xfarm per continuare a rimanere aggiornato con nuovi video e visita www.xfarm.g per maggiori informazioni buon lavoro da xfarm